Tradizione, suggestione e tanto divertimento nello spettacolo presentato ieri sera a Rocca Gloriosa dagli allievi della Quinta Praticabile di Genova. Il numeroso pubblico che gremiva Piazza Europa, dove ha avuto luogo, la Fera dello Santo, si è lasciato affascinare dal magnifico testo scritto da Pasquale Carelli. Uno spettacolo ambientato in un borgo cilentano, Rocca Gloriosa, che attraverso la rappresentazione delle carte racconta i destini della gente e la storia dei luoghi. Oltre alla bravura degli interpreti, meritano apprezzamenti e citazione l'ambientazione scenica, trucco, costumi e coreografie e l'eccellente regia. Congratulazioni allo scrittore Pasquale Carelli e alla Quinta Praticabile di Genova che ogni anno presentano spettacoli di grossa levatura artistica. E non è finita. Oggi alle 21 e domani sera alla stessa ora, 30 e 31 luglio 2024, il teatro rappresentato dalla Quinta Praticabile di Genova sarà di scena nelle acque del Mingardo sotto il Ponte del Fascio, a San Severino di Centola, per regalarci, La terra delle piccole lune, tratto da uno dei libri più belli scritti da Carelli. Suggestione e successo sono garantiti. Grazie. 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 Grazie.